Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Mattina Live. Siamo ritornati nei nostri classici studi, ma ritorniamo subito a parlare della 74esima edizione del Festival di Sanremo. E sì, perché anche noi tutta la settimana con Mattina Live siamo stati proprio lì, nella città dei fiori, che ha accolto il Festival della canzone italiana. Vi abbiamo parlato di qualsiasi cosa, siamo andati lì a scovare ogni piccolo segreto del Festival e oggi siamo ritornati qui in diretta da Napoli. Abbiamo deciso quindi di partire proprio con Sanremo, con degli ospiti tra l'altro preparatissimi. E inizierei proprio a presentarveli. Diamo quindi il benvenuto a Rosanna Astengo, giornalista e speaker di Audio Live FM. Buongiorno. Ciao Diletta, buongiorno. Enzo Agliardi, direttore di People in Italy. Buongiorno. Ivan Fedele, attore e scrittore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Antonio Riccardo, make-up artist, buongiorno. Ben ritrovato, eravamo insieme anche a Sanremo. E Gioia V, cantante, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. E in collegamento saluto anche Gennaro Marco Duello, noto giornalista di Fanpage. Buongiorno Gennaro. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito dalla vincitrice Rosanna, Angelina Mango, che nel rush finale effettivamente ha avuto la meglio su Giollier, che ha totalizzato sabato il 60% del televoto. Come commenta questa vittoria? Beh, in effetti, Angelina Mango era data per vincente molto, molto prima che cominciasse la Kermesse. Un po' per il fatto di essere una figlia d'arte e si porta con sé anche, credo, un bagaglio pesante, perché deve dimostrare continuamente di essere all'altezza, insomma, delle sue origini, della sua famiglia, ma allo stesso tempo di avere una personalità, una individualità, anche come artista. Indubbiamente, devo dire che era tra le più intonate, perché quest'anno c'è stato un problema, credo, generalizzato sull'intonazione dei cantanti, se vogliamo farne un discorso musicale. E' molto brava, una ragazza che ha studiato, nulla a togliere anche agli altri artisti, ad artisti anche molto più navigati. Abbiamo visto una Fiorella Mannoia, una Loredana Bertin splendida forma, quindi sicuramente la vittoria è meritata, diciamo, a ragion veduta, ecco, sì. Enzo, parliamo di Giollier, che ha creato da subito grande scompiglio. Prima dal testo trascritto, appunto, della prima serata, quindi le polemiche, ancora prima di iniziare il Sanremo, poi la serata delle cover, con la vittoria e tutto quello che poi è successo, i fischi, la sala che si è alzata durante l'esibizione. I fischi sono sicuramente stati di cattivo gusto, ma secondo te farà parlare ancora di più questa medaglia d'argento? Provo a farti una riflessione generale. Allora, esageratissime le polemiche all'inizio, la lingua è in evoluzione, quindi non è un problema. Se Amadeus si autorizza a usare il napoletano, può essere anche il napoletano moderno, ho trovato esagerate francamente le critiche. Numero due, Giollier. Se non doveva vincere Giollier va benissimo che abbia vinto Angelina Mango, sono comunque due giovani, bravissimi artisti del Sud. Quello che ho trovato veramente da mettere a posto è il regolamento del voto, perché questo regolamento, questo peso sbagliato, secondo me, delle componenti radio, giuria, tv, televoto, eccetera, ha creato un sacco di polemiche. Per me, se vinceva venerdì Angelina Mango e sabato Giollier si sarebbero eliminate tantissime polemiche. La reazione sbagliata del pubblico, sbagliata perché esagerata, non perché non fosse legittimo criticare venerdì, nasce dal fatto che ha fatto un'esibizione meravigliosa Angelina Mango, vocalmente ed emozionalmente, mentre invece di tutte le serate probabilmente i duetti non sono stata la cosa che ha valorizzato di più Giollier. Quindi questa cosa poi di chiunque avesse vinto quella serata al posto di Angelina Mango avrebbe avuto i fischi. Trovo però la cosa più bella del festival, al di là di alcune cose legate alla mamma di GioGio o ad Allevi, trovo la cosa più bella la spontaneità sia di Giollier e la semplicità di Giollier e di Angelina Mango. Angelina Mango che è caduta, ma non se ne sono manco accorti molti, e continuava a scusarsi come chissà quale guai avesse fatto, invece non era così. E Giollier che ha risposto con una maturità, un'eleganza, uno stile ed una compostezza e una dignità alle provocazioni, perché tali erano dei giornalisti, ha risposto in una maniera perfetta e quindi queste due cose hanno dato la loro grandezza. Quindi bravissimi entrambi, al di là del voto finale e del risultato di cui potremo parlare. Ma c'è qualche artista da cui ti aspettavi qualcosa in più? Sì, Annalisa secondo me non ha vinto per il brano che non era all'altezza. Lei è una cantante fantastica, è arrivata da dominatrice dell'anno, avrebbe vinto secondo me se il pezzo fosse stato un poco più all'altezza delle sue grandi qualità. Si approva venerdì duetti, Sweet Dreams ha fatto una cover meravigliosa e ha una potenza vocale che i brani che spesso canta, brani come dire costruiti ad arte eccetera per essere tormentoni, non rendono chiaramente giustizia la sua grandissima capacità. Gennaro vengo da te, tornando proprio al sistema del televoto, il pubblico si era espesso da casa per ben due volte, quindi è una vittoria secondo te della giuria di esperti o le vendite daranno ragione a Jolier? Allora, posto che le vendite danno già ragione a Jolier perché i numeri che fa sullo streaming dimostrano chiaramente insomma che era Sanremo ad avere bisogno di Jolier e non il contrario, sulla questione del voto io sono d'accordo con Renzo Agliardi che mi pare diceva insomma c'è bisogno un po' di una riforma del sistema del voto, tu hai parlato di giuria degli esperti, in realtà gli esperti sono stati tolti da Amadeus proprio nel primo anno, quella è una giuria fatta da sala stampa in giornalisti e in giuria delle radio. Io credo che dall'anno prossimo vada ripristinata quella che era la vecchia giuria di qualità oltre alla giuria degli orchestrali che a Sanremo hanno sempre votato, cioè l'orchestra che suona poi le canzoni di Sanremo. Il voto dell'orchestra secondo me deve necessariamente essere determinante per poi portare alla vittoria finale uno dei cantanti, tanto quanto quello della sala stampa. C'è stato chi sui social, lo cito che è anche un caro amico collega, che è Pierpaolo Vedino, che ha giustamente detto a questo punto se poi il risultato deve essere sovvertito i giornalisti forse probabilmente che sono là comunque per raccontare il festival, non per indirizzarlo, probabilmente non dovrebbero più votare per la vittoria finale, ma magari solo per il premio della critica che infatti combacia poi alla fine. Il premio della critica è andato sempre ad Angelina Mango, ecco, in questo senso. Sì, infatti, sarebbe più giusto forse, no? Sì, 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 è una provocazione chiaramente, però nell'ambito del ragionamento sul sistema di voto forse è una riflessione che va fatta in questi termini qua. Perché ripeto, il primo atto della gestione Amadeus, che poi forse ha segnato il successo delle sue cinque stagioni, è stato quello di escludere la giuria degli esperti ed escludere la giuria degli orchestrali, a favore del telefono e dei giornalisti della sala stampa. E questo poi è il risultato. Ivan, non saremmo che sicuramente non ci si aspettava, con un eco molto forte dal punto di vista social e sociale anche. Ad Amadeus quindi anche il merito di aver portato la generazione Z a seguire il festival finalmente, dopo tanti anni? Sì, i giovani sono i protagonisti non solo della gara, come abbiamo visto con il podio, ma proprio come telespettatori. Ricordiamo, negli anni 80-90 Sanremo era abbastanza lontano dai gusti dei giovanissimi. Adesso c'è un'inversione di tendenza. Già dall'ultimo Sanremo di Claudio Baglioni ci fu un'inversione di tendenza. Tanto è vero che quando uscì il cast molte persone dissero, ma questi chi sono? Non li conosciamo. Perché erano cantanti, artisti più seguiti dai giovani. Ricordiamo Achille Lauro, Ultimo, Mambud, per dire tre nomi di quelli lanciati in quell'edizione. E Amadeus ha accentuato ancora di più questa tendenza da abili ascoltatori anche della fascia giovanile, che lui è, ha fatto un Sanremo radiofonico. Cioè le canzoni di Sanremo sono quelle che poi ascoltiamo in radio, quelle che hanno più streaming. Insomma, non Sanremo che parla la lingua talmente dei giovani che adesso qualche over 40 non le capisce. Se vedi sui social, no ma io Joliet non lo conoscevo, questo cantante non lo capisco. E adesso è un po' più difficile per le persone in età che guardano Sanremo calarsi in questo contesto. I numeri e lo share gli hanno dato ragione, direi. Ha stravinto, ha stravinto. Molto bella la cosa che ha detto Gennaro invece sul televoto, non ci avevo pensato. La giuria fatta, i voti dell'orchestra, oltre a una giuria di qualità, io direi veramente di qualità, diretta da un Mauro Pagani, da un Carlo Massarini, insomma da chi veramente si intende di musica. Perché anche su questo bisogna stare attenti. Non dimentichiamo Sanremo 2000, dove se la contendevano Irene Grande e Gianni Morandi, arrivò Mike Buongiorno, presidente della giuria, che fece mettere a tutti i giurati, zero a tutti i cantanti, 10 a Yahweh on Travel, che dal quindicesimo posto passarono al primo. Al primo. Ma guarda, gli orchestrali sono sempre molto oggettivi nella votazione. Antonio, vengo a te. Un commento sugli abiti. Questo è stato un Sanremo basato anche sulla moda, sulla tendenza, sui look. Donne e uomini, molti giochi di trasparenze. Secondo te chi è esagerato e chi poteva invece valorizzarsi di più? Allora, diciamo, a me mi è piaciuto molto Mammut. Ha dato un po' questa classe, anche nello stile, nel modo comunque di neotendenze. Anche per dare una linea femminile e maschile, perché bisogni ci sono tante critiche che comunque va oltre al maschile, va nel femminile. Mi ha dato un segnale molto molto giusto. Mi è piaciuto molto Giorgia. Giorgia è una cantante, per me, di eccellenza. Ha dato un po' di classe nello stile, anche un po' di trend. Quando ho utilizzato questo Tarte, che è un po' più fashion, mi ha dato impressione che lei è comunque molto camaleontica. Nella sua semplicità, però, sempre. Sì. Quindi comunque un festival basato soprattutto nel make-up, nella semplicità comunque più assoluta. Make-up, sì, quest'anno mi è piaciuto tantissimo, molto nella semplicità, nella pulizia. Mentre invece nell'anno scorso non mi sono piaciuto troppo over. Allora si perde anche quella classe, quella... Quell'eliganza. Giorgia, vengo da te, tu sei una cantante. Voglio parlare ovviamente di te, della musica. Chi hai preferito in questo Sanremo, al di là della classifica? Guarda, devo dire che, come abbiamo già detto precedentemente, la scelta è stata molto azzeccata. Cioè degli artisti, quindi c'erano veramente tutti i cantanti validi. Mi sono piaciuti in tanti, ovviamente se devo guardare la scelta della canzone commerciale, quella che mi fa canticchiare, ballare, vabbè, mi è piaciuta ovviamente Annalisa, Angelina, Mahmood, ma mi ha colpito molto Gali. Gali nel profondo proprio. È stato veramente... Un testo molto forte anche. Molto intenso, sì, molto intenso Gali. Mi è piaciuta pure Irama. Irama, sì, Irama. Bellissima canzone. Molto... Anche Irama, sì, Irama e Gali si sono contraddistinti dagli altri. Da Fiorella Mannoina mi aspettavo il classico pezzo struggente, un po' come che sia Benedetta, quindi mi ha sorpresa con quella sua briosità, insomma, sul palco dell'Arison. Non me l'aspettavo, insomma, aspettavo il classico suo brano struggente e invece ci ha sorpreso con questo brano frizzante e brioso. Rosanna, gli ascolti sicuramente hanno premiato tutte e cinque le serate il festival di Amadeus, ma adesso bisogna già pensare a un dopo, Amadeus. Secondo te chi può essere un nome? O se ci vuoi fare un totonome? Sui social ho letto di molti che segnalavano Gerry Scotti addirittura, ma credo che sia un azzardo assolutamente improbabile, nonostante Gerry Scotti come Amadeus venga dalla radio, venga da DJ Television, quindi una generazione di personaggi che hanno vissuto al meglio entrambi i linguaggi, sia quello della radio che quello della TV. Credo che sia molto improbabile. Mi auguro che ci sia una donna a capo del festival l'anno scorso che prenda un po' l'eredità di Raffaella Carrà, che è stata una grande direttrice artistica, oltre a essere stata una grande presentatrice, anche perché le donne hanno sempre una marcia in più, insomma, i festival condotti dalle donne l'hanno dimostrato sempre. E a proposito di donne, Gennaro, vengo da te, perché il Varietà con Lorella Coccarini e la Serata delle Covere è tornato veramente alla grande. C'è bisogno quindi di riadattare in qualche modo anche il format di una volta, o ci potrà secondo te essere spazio anche per altre idee, oltre alle trasmissioni principali? Ma guarda, io credo che la liturgia poi alla fine sia sempre quella, la grammatica dello spettacolo, un po' come tutte le cose del resto, devono sempre attingere a quelle 4-5 cose, un po' come dire le note sono 7. Quindi ci vuole sempre un occhio al passato e un occhio al linguaggio innovativo. Volevo riallacciarmi alla collega Rossella, perché io credo che l'anno prossimo sia assolutamente una donna la condottrice del Festival di Satemo. Questa mattina Fiorello, nella puntata di Viva Rai 2, di fatto ha lanciato Antonella Clerici per raccogliere il testimone di Amadeus, la videochiamata in diretta, e in pratica l'ha investita di questa carica, aggiungendo a lei Alessandro Cattelan. Io credo che la prossima stagione debba necessariamente essere una stagione intermedia dopo queste 5 stagioni, servono due nomi per non bruciarne alcuno. E io credo che Antonella Clerici e Alessandro Cattelan possano seriamente essere i principali indiziati per condurre insieme il Festival di Satemo del 25. Chissà, vedremo, vedremo. Enzo, un festival sicuramente anche di messaggi importanti, dall'interpretazione di un testo di amore che parla dell'amore equilibrato dei ragazzi di Marefori alla lettera degli agricoltori italiani che vogliono appunto difendere le loro rimostranze. Quindi l'Ariston, un parco sicuramente speciale, non solo per la musica. Il Festival di Satemo è da sempre una vetrina dell'Italia, quindi io trovo esagerate anche le polemiche quando vengono lanciati dei messaggi. È vero che molte volte è stato strumentalizzato con dei messaggi chiaramente politici, se però i messaggi sono non di parte, non di schieramento, qualsiasi esso sia, ma di attenzione al sociale, per me è un'occasione importantissima. Quindi mi è piaciuto moltissimo il messaggio sull'amore dei ragazzi di Marefori, mi è piaciuto moltissimo la presenza di Daniela Di Maggio che è stata, ricordiamolo, invitata da Amadeus. non è una persona che ha speculato sul dolore, è una persona che anzi, invitata, ha portato un messaggio con grande dignità, con grande lucidità, con grande chiarezza, e quindi trovo ignobili quelli che non fanno distinzione delle cose e si permettono di criticare una persona che ha avuto il dolore più grande che ci possa essere nella vita, e che quindi per me è autorizzata a dire e fare tutto, e lo ha fatto in una maniera meravigliosa. Tra l'altro quando Giorgio ha poi suonato, diciamo, con l'orchestra, con la sua musica, ha realizzato il suo sogno di estrici, in qualche modo, come è stato bellissimo il messaggio di Giovanni Allevi, che è un maestro, compositore, quindi la persona, come dire, più titolata, come la musicista Giorgio, a stare su quel palco, e a dare un messaggio di forza e di coraggio che nasce dal dolore, quindi uno switch fondamentale. Quindi sono stati per me i tre momenti più belli, assolutamente. Ivan, Fiorello superstar, quindi ha davvero creato un connubio perfetto, direi, con Amadeus, di sicuro successo di ascolti, lui è un cavallo di razza, riesce sempre a sorprenderci. Sì, poi Fiorello e Amadeus sono cresciuti insieme, quindi lui gli ha coperto le spalle, il conduttore è stato sempre Amadeus, però Fiorello, come una chioccia, sempre a esserci, sempre a contornare, con i suoi colori, con la sua allegria, con il suo essere mattatore, un Fiorello che poi, dopo la puntatuna, che finiva alle due di notte del festival, continuava con quella sorta di dopo festival, viva radio, viva Rai 2, che poi non capivo mai, mi addormentavo la sera, che c'era Fiorello in tv, mi svegliavo la mattina, c'era ancora Fiorello in tv, non capivo qual era la replica, è stato un 24 ore, quando dormivano, ovviamente, è stato un 5 giorni, dove non si è capito, poi anche, vuoi dire stare, vuoi dire in scena, siamo a Amadeus, che Fiorello, tutte quelle ore, e dare il meglio, dare la qualità, non è assolutamente facile, quindi, un encomio davvero, a questi due enormi, professionisti della tv, che un po' rimpiangeremo, perché, per quanto possano essere bravi, i loro prosecutori, loro hanno fatto 5 anni, molto, molto forti, robusti. Ecco Antonio, alla fine, chi è stato il vero vincitore, nei look, di questo Sanremo 2024, un nome? Emma Marrone. Emma, quindi non l'avevamo nominata, nella sua semplicità, per te, lei? Anche un make up, molto, molto bello, io lo conosco, il suo truccatore, che è bravissimo, e anche questo look, mi è piaciuto tantissimo, io guardo molto la semplicità, anche nel make up, nell'outfit, diciamo, dare troppo, negli abiti, negli accessori, nel make up, involgarisce un pochino, anche perché, se una donna non è elegante, un po' questo stile mascolino, capito? Lei, ha racchiuso proprio... Si è riuscita, tra l'altro, anche la canzone, era molto piacevole, secondo me, la sentiremo spesso, anche in radio, Rosanna, i talent, sicuramente hanno cambiato, anche le tendenze musicali, quindi, con il rap, che abbiamo visto, predominante quest'anno, artisti del calibro, però, della mannoia, la bertè, che restano sempre, in auge, sempre fortissime, quindi, tutto il connubio, della musica, tra le nuove generazioni, e quelle con esperienze, effettivamente, trentennali. Credo che sia giusto, anche così, perché, bisogna, che i giovani, conoscano anche, le vecchie glorie, vecchie, tra virgolette, perché, io ho trovato, Loretta, una bertè assolutamente moderna, molto più moderna, anche di, di qualche giovane, una fiorella mannoia, capace sempre, di grande poesia, anche se, non è stata proprio al top, però, era lì, si divertiva tantissimo, ho visto, ho notato molto questo, al di là, insomma, del fatto, che una come l'epop, possa permettersi, qualsiasi cosa, anche di, di fare meno, di quello che, che sa fare, normalmente, credo che, facendo un discorso musicale, sì, i talent hanno sfornato, anche, devo dire, anche dei fenomeni, molto interessanti, uno su tutti i santi francesi, li ho trovati, molto interessanti, più, anche più, rispetto a, a quello che hanno fatto, poi, a X Factor, il duetto con Skin, è stato uno dei momenti, la strada delle puover, sono stati, fenomenali, davvero, hanno giocato, devo dire che hanno giocato facile, perché, alleluia, un pezzo che Skin ha, nelle sue corde, però, anche loro, per quanto riguarda, invece, le radio, io credo che, per la radio, bisogna fare adesso, un discorso a parte, nel senso, credo che vada istituito, un premio, soltanto, delle radio, perché i tempi sono cambiati, e mi ricollego, anche a quello che diceva, il collega Gennaro, perché, ormai, il successo, della canzone Sanremese, non passa più, dalla radio, i tempi sono cambiati, e questa cosa, la dobbiamo accettare, io prima, in primis, come radiofonica, devo dire che, bisogna avere anche, l'onestà intellettuale, di capire, che non è più la radio, che è detta, le tendenze, ma è Spotify, sono gli streaming, è YouTube, i numeri sono quelli, quindi, io credo che, anche nel voto di quest'anno, se ci fosse stato, un premio, uno per la sala stampa, uno il premio, mia Martini per la critica, e uno soltanto, delle radio, si sarebbe equilibrato, credo, poi, il resto, delle votazioni, perché c'erano, dei brani, che erano, molto radiofoni, quindi, dividere le votazioni, per comparti differenti, sì, perché la sala stampa, non sempre, è omogenea, io ho esperienza di sala stampa, ho cinque edizioni, quindi, ho un po' anche, imparato a leggere, tutto toccare con mano, quello che succede, assolutamente, sì, i giornalisti e la carta stampata, non sempre sono, degli esperti musicofili, ma sono lì per raccontare, mentre invece, chi fa radio, generalmente, innanzitutto, prima ascolta, io credo, anche dei grandi outsider, non ne abbiamo parlato molto, ma i ricchi e poveri, sono stati di un'ironia, bella sorpresa, è vero, è vero, Zennaro? Sì, sì, sono d'accordo con Rosanna, tutto giusto, poi da giornalista, l'ho detto, insomma, ho fatto quasi un attacco alla mia categoria, dico, molto probabilmente, molto spesso, i giornalisti finiscono poi per fare la corporazione, e come di fatto è successo, insomma, se posso, queste sono state le, abbiamo parlato delle cose più belle, le cose più brutte, forse le ha fatte proprio la nostra categoria, e penso alla domanda, imbecille, della collega di Pavia, fatta a geolier, quella è una domanda che non si fa, cioè, se c'ero io, il mio direttore mi stacciava il tesselino, domande del genere, si fanno solo con cognizione di causa, se tu hai delle prove, che puoi poi portare a supporto, di quella che è una, è un'accusa vera e propria, altrimenti è solo un'insinuazione, di letto a scuola, e questo è un'altra cosa brutta, insomma, vedere poi le esultanze, le esultanze da bar, alla vittoria di Angelina, perché poi va a togliere, e poi va a togliere anche luce, a una vittoria, che comunque io credo sia solare, cioè quella di, quella della figlia di Mango, ecco, al di là, al di là di tutto, al di là di tutte le critiche, esatto, alla di Napoli si parla sempre di critiche, non lo so perché, quindi penso che questa è una cosa abbastanza comune, Rosanna voleva aggiungere una cosa, sì, che la sala stampa di Sanremo, per molti giornalisti, o comunque aspiranti tali, è anche un modo per mettersi in mostra, c'è gente che esiste soltanto in quella settimana, allora si va lì, anche diciamo proprio con l'intento di scatenare la polemica, di far parlare di sé, di farsi pubblicità, io mi ricordo di un anno in cui, uno dei miei colleghi in sala stampa, era un ex di Sarabanda, l'uomo gatto, che è un giornalista, però in quella settimana, lui aveva bisogno di farlo vedere, diciamo la questione, le cose diontologicamente non vanno bene, dire hai rubato, forse hai rubato lei il tesserino, perché diontologicamente, è l'ultima cosa che puoi fare, accusare in quel modo, e soprattutto metterti in mostra, i giornalisti, quelli tra virgolette, che non hanno fatto bene il loro lavoro, hanno sbagliato, perché da persone che devono raccontare, o mettersi al posto delle persone nelle domande, hanno dimostrato di non saper mediare, e interpretare i gusti del pubblico, in questo sta il loro errore. Ebbene, noi vi ringraziamo veramente per questo spazio, dedicato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, grazie per essere stati con noi, da Rosanna Stengo, e poi Enzo Agliardi, Ivan Fedele, grazie, Antonio Riccardo, grazie, Gennaro Marco Duello, in collegamento, grazie, gioia a Vili, grazie a voi, è sempre un piacere, grazie. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, rimanete con noi a mattina live.